...a radio e con gli altri mezzi che la doveriamo. Vediamo dove incominciare l'Eucaristia nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, la pace sia con voi e con i tuoi spiriti. Avremo modo di parlare anche fra di noi, ma io poi di alcuni esperti, su questo tema della comunicazione sociale. Ora vogliamo metterci in comunicazione insieme con il Signore e vogliamo chiedergli prima di tutto perdono se tante volte comunichiamo poco. Se con Lui ascoltiamo e preghiamo poco. E poi chiediamo anche perdono se tante volte la comunicazione non è così intensa tra le persone che abbiamo in famiglia, nel vicinato, nel posto di lavoro. E per ogni altro peccato chiediamo perdono a Dio. Signore, che sei la pienezza di verità e di grazia, abbi pietà di noi. Signore, che ti sei fatto povero per abitirci, abbi pietà di noi. Cristo, che sei venuto a fare di noi il tuo popolo santo, abbi pietà di noi. Signore, che sei la pienezza di Dio ripotente, abbi a misericordia di tutti noi. Perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amo. Preghiamo. O Dio, tu hai voluto che il Santo Vescovo Francesco di Saro si facesse tutto a tutti nella carità apostolica. Concedi anche a noi di testimoniare sempre, nel servizio dei fratelli, anche attraverso le comunicazioni sociali, la dolcezza del tuo amore per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amo.